Ciao a tutti, sono Viva, sto bene, ma tutto a posto. Faccio solo questo brevissimo video di aggiornamento tipo mini storia su Instagram per aggiornarvi sul fatto che qui è tutta una novità, casa nuova, nuova situazione nella mia vita in generale, nuova scuola, quindi devo riabituarmi a tante altre persone, a nuovi ritmi, a altri modi di vedere, di fare le cose, di lavorare. Capite bene che per me è un momento di enormi novità, sono un po' berata da tutto perché devo costruirmi una nuova routine e abituarmi da capo a quella che sarà una situazione molto più stabile rispetto a quella degli anni precedenti. Tutto questo per dire che il canale tornerà, chiaramente non ho interrotto nulla, però è tutto un lavoro in corso, anche la Makeup Collection è un lavoro in corso e vedrete a tempo debito come sarà quando avrò deciso come sistemarla. Le idee sono chiare nella mia testa, anche le cose da tenere sono molto chiare nella mia testa, vedremo cosa sarà possibile fare prossimamente e vedrete considerati i tempi piuttosto ristretti che ho, perché comunque faccio la pendolare e gli spazi, perché questa casa non è enorme. Quindi spero che abbiate apprezzato questo mini video aggiornamento e noi ci vediamo quanto prima. Devo ancora rispondere a dei commenti più vecchi che mi avete lasciato sotto l'ultimo video, di cui vi ringrazio tantissimo. A presto, ciao!